Una tradizione di famiglia è la piccola creatura nata dal laboratorio Minifilm Lab. Com'è andata Giuseppe? Beh in realtà è andata benissimo nel senso che questi laboratori permettono di realizzare dei corti che sappiamo benissimo quanto le produzioni per realizzare un cortometraggio siano difficili, impegnative e quindi danno delle possibilità con grandi aziende e grandi attori di fare delle belle cose quindi ci siamo divertiti tantissimo affiancati da un cast assolutamente validissimo con cui ci siamo divertiti tantissimo e quindi hanno dato delle opportunità che magari da soli è difficile poter realizzare. Come nasce l'idea di una tradizione di famiglia? Allora l'idea come input iniziale ci è stato dato diciamo i 60 anni di Mini. Da quei 60 anni noi abbiamo sviluppato l'idea del compleanno e ciò che gira attorno a un compleanno è solitamente una famiglia o comunque il compleanno in famiglia è quello che è un po' diciamo nel ricordo di tutti noi un po' tocca un po' tutti e da quel discorso familiare poi siamo partiti per usare il compleanno come spediente per poi raccontare in realtà una storia un po' più importante cioè ovvero di un lutto e di due sorelle che rimangono sole con un padre quindi siamo partiti da questa idea del compleanno in realtà per parlare poi di un'altra situazione che comunque ha sempre della speranza cioè si festeggiano 60 anni si parla di una cosa importante ma senza senza pensare solamente alla tristezza ecco cioè abbiamo dato alla fine un tocco di speranza in maniera positiva. Cosa c'è alla base del litigio tra queste due sorelle? Alla base del litigio tra le due sorelle in realtà c'è il rapporto tra due sorelle che è qualcosa che soltanto chi ha davvero un fratello o una sorella può riuscire ad arrivare a capire con tutte le divergenze di carattere di opinione che importano fino a un certo punto perché la verità è che lo scontro tra due sorelle nasce da una matrice comunque d'amore o di rapporto in ogni caso che è molto molto forte e molto molto stretta in questo caso c'è una differente attitudine al vissuto al trascorso del lutto ognuna delle due sorelle l'ha elaborato a modo suo riuscire a superarlo e a farlo insieme potrebbe essere una grossa difficoltà la verità è che appunto si può fare se si riesce a rimanere uniti per cui alla base in realtà c'è una forte unione questa è la verità che nasce da un conflitto ma che è comunque un'unione abolire o seguire una tradizione di famiglia se devo parlare per il mio personaggio seguire la verità è che riuscire a trovare un equilibrio partendo da una situazione di disequilibrio necessita di un grosso lavoro per cui il punto non è abolire o seguire ma riuscire a ritarare diciamo il il tiro diciamo diciamo averla c'è la cosa importante avere una tradizione di famiglia probabilmente cioè che poi cambi si modifichi però la cosa che proprio rende unita una famiglia o che rende uniti in questo caso i nostri personaggi avere una tradizione in realtà la cosa la cosa davvero importante avere una famiglia in questo corto poi le tradizioni si possono adeguare che non sia perfettamente completa diversa nel senso il concetto di stare uniti in una difficoltà cioè questo quello che speriamo passi e che ci ha mosso un po a noi a fare questo lavoro